Il Palermo torna subito in campo dopo il pareggio ottenuto ieri al Braia contro il Carpi, risultato comunque importante in chiave e classifica. I Rosanero sono tornati ad allenarsi questa mattina al Tenente Onorato. C'è da preparare il turno infrasettimanale, la sfida di mercoledì sera allo stadio Renzo Barbera contro il Milan. Vi ricordiamo che i biglietti sono già in vendita presso tutte le rivendite di Sticket autorizzate su internet, su palermocalcio.it e su listicket.com. Da domani aprirà anche il botteghino sud dello stadio Renzo Barbera. La squadra ha svolto lavoro di scarico, naturalmente ci riferiamo agli 11 che hanno giocato la partita di ieri contro la formazione emiliana. Per il resto del gruppo allenamento normale con esercitazioni di carattere tecnico è partita in campo ridotto. Gaston Brugman ha proseguito l'allenamento differenziato e si è sottoposto alle cure dei fisioterapisti.